Mai trovato cose strane, sempre famiglie, tante famiglie e tanti bambini. Se venite il pomeriggio qua è strapieno di bambini. È un parco abbastanza frequentato da famiglie, qua della Cipressina, specialmente il fine settimana e durante la settimana da anziani, coi cani e tutto quanto. Quindi non è perché sia avvenuto sto fatto qua debba far pensare che questo è un parco mal frequentato. Sono tanti anni che lo frequento, in estate ci sono le griglie, vengono le famiglie e quindi è un bel parco. Questo parco è molto tranquillo, c'è due o tre ragazzi, minorenni, che fanno casino, però non sono italiani. È il primo che sento, in 40 anni capito qua, non c'è mai stata violenza, non c'è mai stata... Diciamo che è una zona tranquilla, sia di giorno e anche di notte perché non è che sia... Ci sarà del movimento perché appunto i cani abbaiano di notte, perciò direi qualcosa che sarà.